Si avvicina la data del 25 luglio che darà ufficialmente il via alla 52esima edizione del Festival del Gallo d'Oro di Petriano che per tre giorni renderà protagonisti del territorio, la musica e soprattutto le voci dei partecipanti con serate ed eventi dedicate a tutte le età. Ed è un altro bel traguardo che vogliamo superare e ci aspettiamo un pubblico sempre crescente con gente nuova ovviamente perché tutto cambia, tutto si rinnova e anche il Festival lo deve fare. Infatti abbiamo le tre serate, il 25, 26, 27 luglio, dove iniziamo con la gara Canora dei Bambini, quindi il Galletto d'Oro che abbiamo istituito da un anno. Fatto questo evento del giovedì sera, il venerdì abbiamo dedicato la serata ad uno show anni 90. Il Festival si svolge nella stessa piazza che frequentiamo da anni, Piazza Cavour, adiacente al centro civico dove noi abbiamo la nostra sede. Aderire al Festival da qualche anno è abbastanza semplice, tra virgolette, soprattutto aperto ai giovani perché loro hanno una dinamica diversa sui social e è lì che abbiamo realizzato le nostre maggiori selezioni e iscrizioni. Perché da qualche anno siamo noi ad andare verso il cantante per la selezione e non il cantante da noi, che verrà poi nella fase finale del Festival ovviamente. Però da qualche anno facciamo delle selezioni itineranti nell'entroterra, sulla costa del mare, anche a Pesaro. Quindi cerchiamo di trovare il cantante dove lui preferisce meglio esibirsi. Da lì la selezione poi lo porterà al Festival Vero e Proprio. E lo si fa facendo un'iscrizione sulle nostre piattaforme social, Facebook e Instagram.